Buonasera inizio subito con un pensiero per le persone di Senigallia perché sto vedendo delle immagini inquietanti e mi ha segnalato Alberto Bagnai che la situazione è molto grave in città sono per un caso io sono superstite dell'alluvione con tantissimi morti che c'è stata a Olbia buona parte delle morti era gente che purtroppo abitava in sotterranei o cose di questo tipo e non ha pensato di mettersi in salvo o non ha saputo non ha sentito di mettersi in salvo nei piani alti delle case ecco se per caso qualcuno mi sente o conosce qualcuno in quella in quella zona che abita in un sotterraneo o che pensa che possa abitare un sotterraneo magari pensano anziane o quello che è insomma fatelo perché in quei momenti si sottovaluta tutto comunque detto questo di più purtroppo al momento non non posso non posso fare ciao carolina ciao alessia ciao luca e seminari volevo proprio fare una velocissima chiacchierata con noi perché oggi giorno tutto sommato importante oggi l'ultimo giorno almeno insomma per i prossimi anni sicuramente per me nel nell'aula della della camera oggi con il voto sul decreto aiuti si è chiusa l'attività parlamentare abbiamo votato anche la relazione finale della commissione d'inchiesta davidrossi che il pd non ha votato gesto secondo me inspiegabile e però con questa è finita insomma perché è vero che il parlamentare rimane in carica fino alla proclamazione del del nuovo parlamento ma in ogni caso essendo che io sono candidato al senato se anche dovessi essere eletto al senato non torno alla camera quindi sarà differente insomma no per 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 me in ogni caso comunque vada ecco non esiste una combinazione di eventi tale per cui io possa a breve ritornare alla camera potrei che ne so pensare a una futura legislatura dove tornerei alla camera non lo so ma non credo penso che mi insomma no cioè ho la vaga sensazione che due potrebbero anche essere abbastanza insomma come come legislatura però vediamo sono stati quattro anni e mezzo molto importanti sono stati quattro anni e mezzo del tutto regalati per me che avevo fatto una vita una scelta di vita professionale molto diversa rispetto alla politica che pensavo di averla anche chiusa lì insomma io mi ero ritirato al lavoro lo sapete nel 2008 e con l'intento di di fare soltanto cose che mi piacessero quindi insomma mai più pensavo ecco di finire di finire in parlamento e figurarsi nel caso le cose insomma voi decideste di di eleggermi anche anche stavolta ma pensavo di fare deputato e senatore cioè figurarsi no però i casi della vita voglio raccontarvi qualcosa insomma di questi di questi quattro anni e mezzo che 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 minimamente non non capitano a tutti ecco di di poter vivere di poter servire il proprio paese in in questo modo comincio con la prima volta che sono entrato allora ero entrato per diciamo salutare i colleghi di partito perché io ero responsabile economico ma pur essendo responsabile economico ovviamente non ero parlamentare perché vi ricordate ero consigliere regionale in toscana no quindi ero già andato un paio di volte quindi potrei dire potrei ricordarmi le prime volte che sono entrato ma direi che preferisco ricordare le prime volte entrato da deputato allora una volta eletto girellavo per roma perché ovviamente le prime volte non sai mica tanto bene che cosa succede che cosa devi fare allora boh ero lì a roma e stavo cominciando a guardarmi intorno per dire boh ci vorrà una casa suppongo no quindi guardavo con gli annunci no per vedere boh se c'era un alloggio o qualche tipo di disestimazione o albergo con cui fare una convenzione o similari e a un certo punto dico boh ma hanno detto che avevo visto non so da qualche parte che 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 la camera riapriva per la nuova legislatura perché gli eletti erano stati convalidati ho detto provo andare a vedere un po che che diamine succede e ero molto casual ecco mettiamola così avevo il golfino e allora arrivo e scopro che già mi attendevano no nel senso che i commessi della camera che sono un vero corpo di elite cioè entrare per concorso a fare il commesso alla camera è molto difficile e commessi sono per la maggior parte molto bravi e molto qualificati per 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 il lavoro che per il lavoro che devono svolgere che che tenete presente che la camera e senato hanno leggi proprie hanno regolamento proprio e commessi sono un po tutto polizia vigili insegnanti infermie cioè quindi hanno delle funzioni molto ampie e tutti commessi sono stati forniti subito dal primo giorno di un bellissimo libro con tutte le nostre foto no e loro i primi giorni non appena io ho provato a entrare già mi avevano riconosciuto no cioè onorevole borghi buongiorno e intanto vedevi che tutti ripassavano questo 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 libretto con tutte le nostre 600 facce in modo tale che riuscissero a impararle a impararle al volo entro no l'orevole borghi dice sala del mappamondo per le identificazioni seguo il percorso intanto un po' intimorito ovviamente per essere entrato guardavo tutte le sale guardavo i corridoi no perché al momento entri sei molto spaesato cioè non hai idea poi in realtà è molto semplice no come orientarsi la camera poi ve lo spiego ma ma al momento sei totalmente spaesato quindi vedi questi corridoi messi da una parte dall'altra non sai dove cavolo devi andare allora seguo le frecce arrivo nella parte della sala mappamondo c'erano altri in fila perché c'è la procedura dell'identificazione quindi arrivi ti scopro ma ero lì per caso che tu devi essere registrato devi lasciar giù le impronte digitali perché il sistema di voto all'inizio della legislatura prevedeva prima che col covid esaltassero tutti i parametri prevedeva che insomma si mettesse si mettesse il dito per per validare per validare il voto comincia a fare amicizia con quelli che avevo nei dintorni avevo un eletto all'estero dei cinque stelle davanti perché cinque stelle erano ovunque no da 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 tutte le parti avevo tipo due posti avanti la la mitica marta fascina fascina l'attuale compagna di berlusconi ecco che all'epoca non non lo era e che io all'epoca un po mi colpi perché dico ma assomiglia a lady gaga no e intanto eravamo in fila fuori da questa mitica sala del mappamondo dove inizia un percorso ostacoli dove si lasciavano giù da una parte i documenti dall'altra parte prendevano le impronte digitali dall'altra parte scrivevano cose dovevi seguire un tipo delle stazioni no dove dove poi da una parte faceva una foto e lì stata la fregatura perché ovviamente ho scoperto dopo che quella foto era incambiabile immodificabile e ti avrebbe accompagnato per tutta la legislatura infatti quando vedete sul sito della camera la mia foto mi vedete con un golf perché appunto avevo ero ero casual quel giorno no e quindi la prossima volta se se capiterà ovviamente dovrò pensare di mettere una cravatta e tra parentesi forse anche devo perché mentre per la camera basta una giacca per il senato ahimè è obbligatoria la cravatta non che sinceramente sia un grande problema perché un conto è metterla tutti i giorni mi era venuta a ubbia perché in borsa da ragazzino quando iniziato a 19 anni era un posto della cravatta era obbligatoria la borsa di milano a un certo punto non ce la facevo più qui non oggi non mi dà nessun peso infatti raramente vado con con camicia senza cravatta per cui non non sarà quello sicuramente una differenza che 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 sentirò ecco fra fra la camera fra camera e senato una volta tutto registrato mi misi a girare no dico boh potrò girare nel senso magari mi mi dicono qualcosa ma sai giri no ti viene sempre il dubbio no che dicono ah qua è una zanzara vabbè ti viene sempre il dubbio dicendo ma magari se vado qua in un posto dove non posso andare mi acchiappano no invece ho scoperto che potevi andare assolutamente da tutte le parti no e tutti i pa pregono ma scusi ma vorrei andare a vedere di qua ma certo comincia a familiarizzare con con i commessi scopri che commessi ti 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 non so se per ottima professionalità no o per sincera simpatia nei confronti dei dei nuovi probabilmente è professionalità ma ti vogliono bene sono pronti ad aiutarti al che dico ma scusi ma mi fa vedere guardi e c'è subito qualcuno che ti spiega qui guardi su questo piano ci sono gli uffici così poi sopra ci sono le commissioni io confesso che avendo dato che avevo già l'intenzione insomma diciamo come ruolo quello insomma di puntare a fare il presidente commissione qualora la nostra maggioranza fosse andata al governo e tutto sommato a sorpresa c'era o col centrodestra o con un'altra forma però insomma c'erano possibilità allora sono andato a chiedere di vedere gli uffici delle presidenze commissioni bellissimi e ha detto ma per esempio possibile vedere l'ufficio della commissione biancio fa prego si venga portano nell'angolo no guardo questo ufficio che è meraviglioso quello che avevate visto nei nei primi nei primi anni della due anni della legislatura quello sull'angolo no di di montecitorio no con intanto cominciare a guardare i quadri no dico crosta meraviglia ma guarda questo guarda quest'altro tante croste ma anche qualcosa di buono per 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 i corridoi e quindi non so mi ero messo veramente a esplorare ma mi ricordo la prima sensazione era quella di sto andando da qualche parte dove mi sgridano ecco cioè dove cosa fa lei no lì non si può andare vada via invece scopri che puoi andare assolutamente da tutte le parti proprio perché sei sei il il deputato dopodiché c'è la la prima riunione la prima riunione dove entri nell'aula e quello momento emozionante quello momento emozionante quando dal transatlantico quindi quest'altri luoghi mitici no cioè il corridoione l'atrio diciamo molto grande che c'è prima del dell'ingresso dell'aula finalmente entri dentro e insomma tenda così via poi dopo c'è quella quella grande porta ci sono due una destra una sinistra io ovviamente entro a destra e entri finalmente nell'aula che è immensa no con questo il grandissimo fregio di sertorio in alto tutto il legno tutte le pareti di legno tu il velario sopra no quindi che tiene la luce costante a qualsiasi ora del giorno della notte come casino ecco mettiamola mettiamola così quindi l'ingresso è oggettivamente impressionante ecco mettiamola così devo dire devo dire è questo per per sincerità che l'emozione che ho avuto da ragazzo quando sono entrato per la prima volta nella borsa di milano è stato molto superiore rispetto a quello che ho provato ad entrare alla camera dei deputati però probabilmente deriva anche dall'età una volta che sei un po anziano anche tutte le emozioni ti diventano un po più soft ecco mentre invece immaginate un ragazzo di 19 anni no che la prima volta entra nel nella borsa di milano che che era una specie di tempio insomma equivalente anche come importanza e prestigio insomma alle 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 camere me me lo me lo ricordo con più emozioni insomma devo devo dire invece già un po più tranquillo anche perché boh insomma ho già passato consiglio regionale che che pure è una bella sala no similare niente niente a che niente niente a che a che vedere per oggi è il mio compleanno potresti farmi gli auguri alessia alessia non avevo visto certo auguri alessia ma assolutamente sono contentissimo e dopo di che purtroppo c'è anche il primo voto ahimè e qui serve anche per capire cosa non è andato al dia di queste emozioni no mettiamola così cosa non è andato di questa legislatura bisognava capire che era una legislatura nel segno degli scappati di casa perché il primo voto che uno dice ma cacchio il primo voto insomma c'è una cosa abbastanza importante arriva la comunicazione dice dovete votare fico perché il primo voto che si fa è il presidente della camera e c'erano state gli accordi a quel punto aspettava al gruppo più numeroso del della della camera che aveva indicato fico a quel punto c'erano già anche gli accordi per le vicepresidenze similare quindi essendo che gli accordi erano stati tenuti fra tutti i partiti perché bisogna leggere un presidente e quattro vicepresidenti quindi non è che ognuno può fare il cavolo che vuole seppur lo scrutino è segreto quindi sì uno in teoria può fare il cavolo che vuole ma se rispetta gli accordi che i partiti hanno trovato in modo tale da dire va bene tu 5 stelle sei quello che ha avuto più voti quindi alla presidenza poi delle quattro vicepresidenze allora era una fontana per la lega che poi purtroppo ha lasciato per fare il ministro per breve tempo uno era rosato per il pd l'altra era un'altra del 5 stelle perché avevano talmente tanti voti che gli aspettava ancora un'altra un'altra vicepresidenza che era la la spadoni e poi c'era la carfagna per per forza italia quindi immaginate che 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 figata di di voti però fatto sta che il primo era quello per il presidente io entravo nella cabina e scriverla quasi come il sistema quella presenza repubblica già lì c'era la mano no che a un certo punto voleva ribellarsi dice io devo scrivere la parola fico però all'epoca diciamo così non li vedevo così malissimo ecco 5 stelle al di là della figura di fico che era quello che mi piaceva peggio perché insomma l'idea di fare il governo con loro intravedevo delle possibilità di cose rivoluzionarie insomma intravedevo la possibilità di di cambiare la storia poi lo sapete com'è andata mi sono seduto al tavolo con loro c'era buona fede quella gente lì ho capito che 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 non sia non si sarebbe andati lontanissimo ecco mettiamola così però quello è stato il 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 primo il primo voto e si gioia e luca ricorda cioè alla fine il segno di tutta la legislatura è stato che la stragrande maggioranza erano il movimento 5 stelle una volta diciamo trovato ognuno il proprio posto no io avevo mi avevano messo in un posto se non mi ricordo male in quarta fila perché più o meno il criterio vagamente era quelli un po più noti stanno sul davanti diciamo nella parte centrale dello spicchio non so perché diciamo capogruppo e deputati o deputati un po più noti stavano diciamo fra la quarta e la sesta fila no mettiamola così io tipo ero in quarta e però quando c'è stato subito il primo intervento no da parte di qualcuno che quelli del 5 stelle tutti assieme che applaudivano era abbastanza impressionante perché vedevi che quasi metà dell'aula era occupata da loro e quindi insomma gli altri gruppi erano erano residuali e tutti e tutti molto molto divisi per il resto boh ma è ovvio mi ricordo tante cose alcune forse ve le ho già raccontate diciamo che la prima che diciamo che mi ha fatto capire una cosa che non avevo capito di quel mestiere erano le notturne ero stato appena insediato come presidente della commissione bilancio quindi ero nel nuovo ufficio bellissimo grande questo tipo lì bello tranquillo no nel silenzio a guardare così via ho fatto tardi no ero lì a sistemare le cose a portare il libri fogli no e così via erano tipo le 11 qualcosa del genere erano venuti un paio di volte a chiedermi se se volevo scusi noi staremmo per chiudere detto beh ma se voglio rimanere no no non c'è problema rimanga quanto vuoi va bene e qui ritorna un altro tipo di rapporto con i commessi ti suggeriscono ma non ti ordino mai niente e quindi ero rimasto fino fino a tardi esco e c'era tutto buio e dico ma che cacchio non pensavo che fosse tardi ma insomma che lasciassero acceso o qualche parte quindi c'era proprio soltanto delle minime luci di tipo di emergenza no per i per i corridoi ma altrimenti era era tutto buio e però sento le voci da lontana e dico ma che c'è cioè sono le allucinazioni fantasmi allora vedo una luce in fondo a un corridoio no e sento vociare seguo e arrivo nella sala del mappamondo che nel frattempo è stata sgomberata che che centrale no praticamente una specie di 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 aula nell'aula nel nel piano delle commissioni e c'era una commissione che stava facendo notte già da subito adesso non mi ricordo su che cosa stessero lavorando su su quale proposta di legge o seminari però fatto sta che era le mezzanotte lì tutti a votare vendamenti a far casino no ma perché questa roba qua non va bene che cazzo già star di notte e da lì ho scoperto che le commissioni vivevano anche di notte perché tipicamente se bisognava andare in aula entro un certo giorno gli emendamenti dovevano essere approvati tutti e quindi la commissione di merito quella mi pare che fosse forse proprio la giustizia no che stava cominciando a affrontare insomma i primi i primi provvedimenti erano lì a litigare belli tranquilli alle 11 poi in certi casi all'una le due ecco io di base come commissione bilancio una volta presidente ho cercato quasi sempre di evitare questa roba qua perché in molti casi è del tutto inutile cioè ti tengo lì di notte da parte spesso dell'opposizione così per il gusto di farlo non è che c'è sta grande esigenza no ce lo faccio perché anche io a domandare ma che cazzo serve cioè ma perché fate queste robe qua e perché così sui social possiamo dire che l'abbiamo tenuti di di notte ma che cazzo ma ma che sistema è tanto è vero che insomma in commissione bilancio da subito cominciato con una specie di pattichiare amicizia lunga cioè del tipo sentite evitiamo bagianate no cioè dover stare qua di notte tu voi opposizione volete un riconoscimento per quello va benissimo diciamo chiamiamo i giornalisti lanciate fuori delle sedie lanciate fuori delle delle stampelle ma in modo tale che fate vedere che avete fatto ardua opposizione no la famosa dura opposizione ma poi la piantiamo lì perché è evidente che alla fine quello che continua a dire a quelle dice ma non avete fatto dura opposizione sì tu puoi anche fare dura opposizione ma se il sistema non prevede che chi ha la maggioranza poi possa andare avanti no è un sistema malato perché allora significa che c'è ragione la minoranza non c'è ragione la maggioranza no per cui insomma come come presidente ho sempre cercato di agevolare il dialogo no con le opposizioni che potessero portare tutte le istanze del caso nella maniera più spettacolare possibile ma alla fine bisognava bisognava venirne a una no perché altrimenti non 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 si poteva lavorare in due anni e mezzo di presidenza commissione bilancio che non è l'ultima delle commissioni di parlamentari se avete notato non c'è mai stata una polemica e sì che ero attaccabilissimo vi ricordate no cioè all'epoca qualsiasi cosa dicessi facessi finivo sui giornali perché ero quello che faceva salire lo spread era quello che faceva scendere l'euro ero quello che fa tremare l'europa no cioè servizi sul sul build no così via i mini bot tutte quelle cose lì quindi ero molto attaccabile eppure secondo me credo che quel lavoro lì che è stato ovviamente la mia carica più alta insomma in carriera probabilmente forse sarà anche la più alta che che mai avrò credo averlo fatto bene e penso che diciamo che me l'hanno riconosciuto sia i compagni di maggioranza sia l'opposizione perché non c'è stata una polemica non c'è stato un una lamentela è stata una commissione che ha lavorato veramente bene e approfitto qua adesso per ringraziare tutti i commissari perché sono stati due anni molto 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 belli a poi dopo sì vabbè i ricordi dei video di quando uscivo per perché non di notte non si trovava niente da mangiare certo sì 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 assolutamente poi c'è quello che spegneva i microfoni e c'è stata anche quella con la storia lì che spegneva il microfono a tria insomma è ovvio che nei momenti in cui si governava con il movimento 5 stelle la pressione mediatica era forte ah ecco un'altra cosa la pressione mediatica quando sei importante diciamo così perché sei in maggioranza e all'interno della maggioranza sei decisivo hai un milione di giornalisti che ti inseguono da tutte le parti qualsiasi cosa dici e fai tu esci no? 100 microfoni che ti aspettano e ti dicono improvvisamente cambia la maggioranza nessuno a me non mi è mai fregato nulla anzi di solito cercavo se possibile di evitare perché non è che mi dà particolare piacere quello di essere inseguito da un giornalista col microfono o seminari che tanto poi so che distorce le mie parole perché poi arriva tutto il codazzo anche degli altri il Vespone di striscia la notizia la finta von der Leyen c'è tutto un codazzo di persone che ti seguono e quanto più sei conosciuto quanto più ti seguono io ero molto visibile in quanto appunto uno dei protagonisti di quell'iniziale maggioranza e lì era notevole altra cosa che mi ricordo e mi ricorderò sempre è la sensazione immediata quando ci fu la commissione speciale perché all'inizio non si trovavano non si trovava la possibilità di fare la maggioranza c'è voluto molto tempo per venire fuori con la maggioranza giallo verde all'inizio ci sono stati colloqui incarichi esplorativi, tentativi e così via e nel mentre che si perdeva tempo per riuscire a trovare la maggioranza ci sono voluti se non mi ricordo male 80 giorni insomma se non mi ricordo male per le cose urgenti dato che rimane sempre in carica il governo precedente si era fatta una commissione che prendeva in carico tutti gli provvedimenti urgenti la cosiddetta commissione speciale io ero stato selezionato per questa commissione ma i colleghi di partito che erano già stati in Parlamento ce ne erano molto pochi sì in realtà è stato fatto un sistema diciamo così di chiocce dove chi aveva già dell'esperienza parlamentare si prendeva in carico degli altri però io preferivo impararle da me e poi erano molto pochi cioè i miei colleghi della Lega che erano già stati in Parlamento erano veramente pochissimi cioè per la stragrande maggioranza erano tutti nuovi perché la rappresentanza di chi c'era prima erano veramente pochi comunque appunto una delle altre sensazioni che mi ricordo e che risale alla commissione speciale è la corrente contraria arrivi in commissione ti nominano relatore di un disegno di legge tu fai il tuo lavoro io avevo fatto tutto il mio lavoro avevo sentito le persone che erano potenzialmente interessate a questo disegno di legge raccolte le opinioni e così via alla fine avevo fatto ingenuamente una mia relazione ma prestavo a leggere non appena avevo iniziato a leggere questi mi guardano come se fosse un matto dice ma no ma guardi e deve leggere questa mi mettono sotto il naso la relazione già scritta perché funziona così cioè in realtà tutto viene scritto dagli uffici da cose tu come parlamentare in teoria potresti anche non far nulla semplicemente limitarti ad alzare la manina io però non sono fatto così prendo la relazione precotta butto la mia perché a quanto pare non era quello che serviva prendo la relazione già scritta lì dagli uffici della commissione speciale ma non sono d'accordo su quello che c'era scritto e lì comincia il panico dice no ma come non è d'accordo no qui bisogna cambiare così no ma non si può il governo è contrario faccio ma cosa cazzo me ne frega se il governo è contrario c'è Gentiloni al governo te credo che è contrario no 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 perché l'inerzia vuole che finché ovviamente il governo è in carica anche se quello precedente bisogna cercare di andare incontro a quello che vuole il governo ma dico no questa roba non va bene panico no no ma allora potremmo potremmo cambiare questa cosa aggiungendo un'osservazione con quello che dice lei tutti così a sorriso onorevole certo no capisco il suo punto di vista allora possiamo aggiungere come osservazione e gli faccio beh dopo che l'ho aggiunto come osservazione è vincolante o no? eh no non è vincolante però un'osservazione faccio no ma scusi allora non me ne frega assolutamente nulla se non è vincolante io non voglio che ci sia questa cosa e lì comincia a percepire quell'effetto che io chiamo del vento contrario cioè finché tu ti metti in lista con quello che il palazzo ti vuole far fare con quello che il governo ti vuole far fare va tutto bene scorri via tranquillo le cose finiscono in fretta le sedute finiscono prima puoi tornare a casa puoi fare quello che vuoi nel momento stesso in cui tu cominci a metterti per traverso cominci a percepire l'ostilità no? cominci a percepire il vento contrario quanto più sei contrario e quanto più importante la cosa quanto più è forte il vento quanto più cominciano ad arrivare i giornalisti quanto più comincia ad arrivare la pressione perché se è una cosa importante e tu ti stai mettendo contro chi invece è a favore comincia a sobillare la stampa contro di te no? allora ti dice c'è questo cretino che non vuol far fare una cosa che invece è così importante è così giusta è così santa allora a quel punto comincia un vento contrario terribile cominciano a infangarti cominciano a dirti che sei scemo cominciano a dirti che sei stupido cominciano a dirti che sei un pierino cominciano a dirti che sei un po' matto cominciano a dire che non sei allineato e così via perché ti stai mettendo di traverso rispetto a quello che la continuità del deep state del palazzo e così via vorrebbe che fosse e quella era una scemenza una roba su un piccolo regolamento delle assicurazioni e a quel punto mi ricordo che io gli dissi no ma scusi io voglio che sia vincolato perché alla fine cedono se tu sei sono dei professionisti non è che possono dirti delle balle no gli uomini dell'ufficio allora gli dico vabbè ma bisognerebbe mettere la condizione e gli faccio ah quindi se io metto come condizione questa cosa è vincolante sì benissimo mettiamo come condizione allora riformano come condizione ma era come se gli avessi ucciso il gatto eh cioè erano di una tristezza unica ed era una minima cosa altra cosa che ho capito subito no mettiamo così poi dopo la chiudiamo eh per capire come se il sistema lo contro se lo controlli o non lo controlli arriva in commissione bilancio una delle prime leggi di spesa non mi ricordo quale fosse AIU mille pro non so comunque era una roba prima della della legge di bilancio però era una legge di spesa ed era assegnata in referente quando danno quando una commissione riceve un testo di legge e se ne occupa lei è in sede referente poi tipo la bilancio ha in sede consultiva no tutti gli altri provvedimenti vale a dire c'è una legge che stanno facendo in commissione ambiente cosa di questo tipo passa la bilancio che dice se c'è il prescritto parere no quindi se ci sono i soldi di base che quella legge implica ma chi scrive fisicamente poi la legge è la commissione referente arriva in commissione bilancio una un provvedimento era mi ricordo insieme con le finanze quindi era perché se i provvedimenti sono particolarmente grandi li danno a due commissioni riunite e quindi era una commissione bilancio e finanze riunite e non mi ricordo veramente che cosa fosse il provvedimento ma mi ricordo che arriva un primo input no da da Salvini che dice cortesemente gradirei che ci fosse un emendamento che esenti le ambulanze dal pagamento dei pedaggi autostradali non è che stiamo parlando di chissà che quindi stiamo parlando di quello che era vicepresidente del consiglio quindi uno dei due partiti che avevano fatto questa maggioranza uomo quindi importante ministro dell'interno leader della Lega che chiede che le ambulanze venissero esentate dai pedaggi autostradali e io dico che cacchio ci vuole figurati e lì ho cominciato a capire bene che cosa succede come fanno se vogliono impallarti fai passare l'emendamento e istantaneamente l'emendamento viene bocciato a raffica dal ministro dell'economia e quindi dalla ragioneria perché non si sa quanto sono i pedaggi di questa ambulanza che io gli dico vabbè ma ci sarà uno storico di quanto eh sì ma non si può basarsi sullo storico bisogna mettere così e facciamo vabbè ma mettiamo una cifra eh ma non si può perché poi magari girano di più cioè qualsiasi scusa risultato io mi ricordo che per tre provvedimenti di fila inclusa la legge di bilancio non si è riusciti a far passare quell'emendamento da parte di Salvini eh sulle eh sulle sui sui gratuità per i pedaggi autostradali delle ambulanze perché il sistema non voleva se viceversa se adesso Draghi avesse detto o che mh qualsiasi cosa totalmente scoperta no o similare tanto avrebbero accomodato tranquilli sì diciamo che va così che si può fare una stima no o similare purtroppo cioè rendersi conto di come il sistema da una parte è importante perché manda avanti lo Stato anche nei vuoti di potere ma dall'altra parte è sclerotizzato cioè loro vanno avanti per conto loro e tu all'inizio specialmente sei un po' un accidente no cioè uno che cioè è più probabile che crei rotture di coglioni piuttosto che cose utili e quindi si mettono di traverso in certi casi anche per farti capire chi comanda davvero quindi combattere il sistema col Movimento 5 Stelle all'inizio non è stato particolarmente utile abbandonare del tutto negli anni terrificanti del Covid dove la palla ce l'aveva Conte e io avevo sinceramente paura che potesse instaurare un regime tipo Caligola no e penso che se non fosse caduto un po' ci avrebbe ci avrebbe provato perché quello era veramente intossicato dal potere e poi per finire con Draghi di cui è inutile che parliamo perché abbiamo visto e abbiamo detto tutto recentemente quindi diciamo che è stata una legislatura molto particolare mi verrebbe da dire sono proprio curioso di vedere che cosa succede o come succede se per caso adesso si riesce ad andare al governo con una maggioranza politica coesa e quindi si riesce ad andare al governo davvero con un minimo di esperienza anche per vedere di fare secchi tutta una serie di frenatori che un po' abbiamo già individuato ormai dopo 8 anni per vedere come ormai funziona la macchina un po' l'abbiamo capito sono un po' preoccupato ecco mi verrebbe da dire perché è ovvio che se dovesse esserci una enorme maggioranza di fratelli d'Italia stiamo parlando di rischio di portare ancora delle persone inesperte perché loro recentemente non sono mai stati al governo può essere un bene dal punto di vista può essere un bene dal punto di vista elettorale perché se la gente non è contenta vuole qualcuno di nuovo un po' meno ecco dal punto di vista dell'esperienza se si vuole fare la guerra al palazzo ecco cioè per dire siamo un filo più preparati noi ormai dopo questa esperienza ma vediamo di condividere la nostra conoscenza di cercare di fare il meglio possibile poi vabbè è ovvio che ci sono un miliardo di aneddoti che posso ricordare di questi cinque anni però insomma tutto sommato spesso e volentieri ve li ho ricordati in diretta diciamo che oggi sarà che sei nel di mezzo alla campagna elettorale così questo tipo non è che ho sentito poi in modo particolare l'emozione dell'ultimo giorno perché poi alla fine capisci quello che è una una verità che prima uno la capisce meglio è che quegli uffici quello lì è un guscio e tu lo devi abitare per un breve periodo è quello che voi avete deciso o decidete col vostro voto di affidare periodicamente alle persone che diventano vostri rappresentanti ma ti sopravvive cioè viene prima di te verrà dopo di te l'errore più grande che devi fare è di pensare che sia un ufficio di un vero posto di lavoro che sia la tua azienda o che sia 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 tua perché sei un imprenditore sia tua perché sei un dipendente sono degli uffici temporanei diciamo così dove momentaneamente viene ospitato per il periodo in cui ti viene affidato l'ufficio di deputato o senatore quindi non affezionarsi mai non non preoccuparsi se poi anche quando non vieni rieletto gente che fa dei drammi perché non è stata messa in lista perché non è stato rieletto adesso uno può dire facile tu sei stato ricandidato ti hanno dato un collegio importante no? è così questo tipo e quindi parli facilmente penso che chi mi conosce sa perfettamente che anche qualora questo non fosse successo sarei qua esattamente con quella stessa faccia a dirvi più o meno le stesse cose perché ormai io l'avevo capito insomma l'avevo capito dai primi momenti che tu sei lì e transiti no? e devi cercare di lasciare un segno per quanto possibile questa legislatura è andata così vediamo la prossima se si riesce se si riesce a dare un segno ma io come vi ho detto muoti del 20 muoti del 30 la liberazione arriverà in quel momento sarò contento sia che sarò sia che sarò parte della squadra sia che sarò magari a casa a vedere qualcuno più bravo di me che riesce a portarla a termine grazie e volevo ricordare con voi questo momento grazie a tutti grazie a tutti